Ciao creatura, io sono Eccate Splendente e benvenuta o bentornata nel regno di CosaE, E-S-M-A. Volevo mostrarti la mia t-shirt che fa molto summer vibes però versione goth perché è la lisca di pesce. Ti piace? A me sì parecchio. Poi è anche tipo pelosetta. Tipo pecora, una cosa così non fa caldo per fortuna. Allora, sono sempre fuori decentrata ma non importa. Come hai letto dal titolo? Non so, faccio un po' di soft spoken, un po' di whispering. Come hai letto dal titolo finalmente abbiamo comprato la Mystery Crunch Box. Ho la fattura qui perché è sponsored by me, non è una collaborazione purtroppo. Comprata da American Crunch, American Crunch se vuoi inviarmi gratuitamente qualche box fai pure. Adesso che hai anche il mio indirizzo, ho preso la Mystery Crunch Box Small, costata 29,99€. È quella più economica che c'è in giro perché ho fatto una mega ricerca in tutto il web delle Mystery Box. Quella più economica che dà più prodotti, ha meno soldi, è questa. Perché mi ero fatta la lista che non so più dove è finita. Forse questa... No. Oh, vabbè, da qualche parte c'è la lista. Forse questo... No, vabbè. Avevo la lista con tutte... Vabbè, dai, da qualche parte. Avevo questa lista con tutte le Mystery Box. Comunque l'ho letta in una storia di Instagram. Quindi, se ancora non mi segui, mi trovi col nome Ecate Splendente, mi raccomando. Seguimi su Instagram. E lì avevamo guardato insieme tutte le Mystery Box di cibo. E ho fatto la classifica da quella più economica che è l'American Crunch. Che con la Mystery Crunchy Box Small ha 20 prodotti. C'era scritto a 29,99€ più 6,80€ di spedizione. Invece ne erano altre che avevano tipo 20 prodotti a 34€ con 6,90€ di spedizione. Insomma, così. E poi ho avuto anche un codice sconto. Penso perché... Era il mio primo ordine. Di 3,27€. Quindi alla fine ho pagato ancora meno di quello che pensavo. 33,19€. Top, direi. Mi è piaciuto questo codice sconto che mi sono ritrovata nel carrello. Grazie. Molto gentili. Ah, poi mi hanno mandato questi fogli che presumo mettono in tutte le box. questa qui. Invita un amico, 6€ per te, uno sconto del 12% per lui. Chi trova un amico trova un super sconto. Quindi, magari se ho qualche codice sconto o qualcosa, ve lo metto nell'infobox del video, così se qualcuno vuole acquistare anche un qualche artista smr, smrste. Se vuole acquistare, usi pure il mio codice sconto, così io ho lo sconto e anche lei siamo... e anche l'artista. E quindi, insomma, ci aiutiamo a vicenda, così ne andrò, se ci piace questa box, ne andrò a comprare un'altra. Altrimenti proveremo da un altro sito. Allora, premetto anche questa cosa. Io ho acquistato la mystery box, crunchy box. e però, appena l'ho ordinata, mi è arrivato un messaggio su whatsapp chiedendomi, dato che avevano finito la scatola esterna, probabilmente quella della mystery, non so, dico a caso, ipotizzo. Magari ha dei punti di domanda, non so, c'è scritto mystery, qualcosa, era finita. Cioè, proprio quando l'ho ordinato è finita, che sfiga. Vabbè, ah, niente. Mi hanno chiesto di scegliere tra Summer, che sono altri box che erano grandi uguali, probabilmente, Summer, Mexico, altre cose. Mi hanno assicurato che l'interno sarebbe stato quello della mystery crunchy box, però avrebbero solo cambiato la scatola perché erano finite. Allora, l'ho scelto Summer, dato che il video lo facevo adesso, in estate, mi sembrava più coerente, ecco. Quindi vedrai la scatola Summer box, che è bellissima, tra l'altro. Cioè, che vibes summer, summer vibes fototoniche, bella. Però, in realtà, se ordini la mystery, ti arriverà, se ce l'hanno, un'altra confezione. Bellissima. Eh, è troppo pesante, volevo farti delle visual trigger, ma è pesantissima. E quindi, niente. In questo video voglio solo fare l'unboxing e poi voglio fare, se sono davvero 20 prodotti, voglio fare quattro video dove in ogni video mangio cinque prodotti. Quindi, se la matematica non è un'opinione, continuo a sbatterle dita sulla scatola. Non lo so. Ho troppo le mani quando parlo. Cesticolo troppo. Comunque, andiamo all'unboxing perché non ho idea di cosa mi sia arrivato. Dato che Mystery, a me è arrivata ieri, è arrivato il giorno dopo. Fantastico. E anche il Corriere mi è piaciuto, proprio simpatico. No, davvero, non sono ironica. Comunque, penso di aver spesso bene i miei soldi. Solo per te, creatura. E niente. Cos'è che ti volevo dire? Se qualcun altro vuole finanziare questa tipologia di viti, io posso continuare a farla. Ma se comprate e mi fate avere lo sconto, ancora meglio. Mi è arrivata ieri e ancora non ho spirgiato. Sono stata proprio bravissima, super onesta. E la vostra divinità preferita lo è, assolutamente. E adesso voglio vedere assolutamente che cosa... Cioè, io voglio vedere... Sono troppo curiosa di scoprire che cosa troveremo all'interno. Allora, andiamo ad aprire la confezione. Che cosa ho visto? Che cosa ho visto? Che cosa ho visto? Che cosa ho visto? Mi fa voglia tutto. Allora, ti faccio dare una breve spirgiata. Ah, non ti ho detto che... Non so se te l'ho detto. Cheat. Nelle mystery box mettono anche prodotti che magari stanno scadendo da poco. Tra poco scadono. E quindi, secondo me, è anche una buona cosa. È un po' come... Too good to go. Quell'app dove compri le cose che stanno per scadere, no? Quindi anche questo è un buon modo anche per salvare il cibo e non fare sprechi. Mi piace ricevere delle cose a sorpresa che non so che cacchio ho comprato. Boh, non so perché mi piace, però... È rischioso, lo so. Un sacco di cose. Allora, andiamo a vedere con calma tutte le nostre cosine. Allora, c'è... Questi pretzel honey mustard sauce. Che ovviamente non hanno una traduzione in italiano. Comunque le andremo a mangiare in un video a parte. Quindi non so, fermiamoci troppo su cosa sono e cosa non sono. Perché lo vedremo con calma nel video dedicato. Perché ha un microfono girato, non si sa. Allora, queste ce le avevo anche da piccola. Quindi io non pensavo fossero tipicamente americane. Ma io mi ricordo che ce le avevo queste. Se sono le stesse, simili. Avevo queste gomme da masticare lunghissime dentro. Una confezione del genere. Probabilmente era un'altra marca ed erano fatte diverse. Però me le ricordo che avevano... Erano fatte su così. E erano rosa. Che mi piaceva un sacco. Avere quelle gomme da masticare. Quindi da averle ritrovate, figo. Perché mi ricordo la mia infanzia. Non so se ti ricordi... Era una cosa anni 90. Poi vediamo un po'. Ci sono anche delle cose dolci. Spero ci siano anche delle bibite. Perché in teoria nella descrizione della box diceva che ci sarebbero state anche delle bibite. Ho preso proprio questa perché aveva un mix di cose. Invece volendo si poteva scegliere anche una box di bevande. Solo bevande, solo dolci, solo salato. Ciao Roberta, so che mi stai odiando in questo momento perché sto perdendo tempo a spiegare cose. Invece di mostrare l'unboxing. Allora... Questa barretta di cioccolato, presumo, con all'interno... Si chiama picnic. All'interno mi sa che ci sono delle uvette e arachidi che da noi si chiamano baciccini. Da così sembrava una cosa tipo della Milka. Merda. Perché dimentico che è una box americana. Ci sono due monster. Allora... Non appresto particolarmente le monster, ma mi piacciono assaggiare cose nuove. Però speravo in più di... Di peccare, non so, della Fanta, delle cose così, però vabbè. È misteri e bisogna adattarsi. Allora questo Milk Chocolate Azzelnut. Qui c'è una pseudo etichetta italiana. Che però non traduce un cacchio, dice solo gli ingredienti. Però c'è Fritacalus. C'è il mio fiore preferito disegnato. Che è la passiflora. Bellissima. Wow. Devo ritagliarlo questa. No, vabbè. Mi sono ancora da adesso che c'è la passiflora qui. Bellissima. Ok. Quindi penso siano cioccolatini. Con... Le... Con le noci, forse... Dei dolgetti di... Delle caramelle di Harry Potter. Con gusti particolari sono quella scena disgustosa che io non riesco mai a vedere. Di Harry Potter. Dove vomitano diciamo le lumache. Quella scena mi fa schifissimo. Io non riesco a vederla. Proprio mi sto poi gli occhi così, tipo film horror. E ho peccato le caramelle giustamente. Per superare la mia fobia. Non è che è fobia, è che mi fa schifo la scena. E... Allora, c'è il gusto vera. Poi c'è il gusto... Ah, vera succosa. Poi... Cerri, come si dice in San Leano. Ciliegia... Acida, aspra. E mandarino. Watermelon. Anguria. E banana, che non ha traduzione. Banana. Resta banana. Ok. Vorrei tanto provarle con una persona. Ma lui si vergogna a fare video. Quindi niente. Un po'. Questi altri pretzel. Altri pretzel. Ha un altro gusto. Gusto pizza. Interessante. Una specie di... Fonsis... Ris... 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 Sapor ketchup. Non credo sia molto... American questo. Mi sembra una roba spagnola. Ma non importa. Extra... Grunch. Quindi sono dei Fonsis tipo... Gusto ketchup. Sembrano le guac幼ale ketchup. E ce ne è happen... Di altri due tipi. Si vede che dovevano venire queste cose. se me le ha più fatemi, eh, grazie, però, perché a me c'erano quelle cose salate, mi giocano un sacco, c'è il gusto, sabor, original, il gusto originale, saranno solo salate, non so perché ci sono dei pop corn disegnati, forse sono al mais, ok, cosa stavo dicendo, se mi interrotta, e poi, gusto piccante, gusto piccante, non vedo l'ora, poi abbiamo delle cose dolci, cioccolatose, queste che non ho mai assaggiato, i Maltesers, le ho sempre viste nei video degli altri, non le ho mai assaggiati, e sono, poi c'è un kit kat di Pasqua, con un coniglietto di Pasqua, anche questi sono di Pasqua, anche questi, anche questi, cos'è questo, Pulparindo, Pulparindo, che cacchio è, Watermelon, sembrerebbe una di quelle caramelle, un po', molto sticky, ah, with real fruit, certo, ci credo tantissimo, allora, meglio non leggere gli ingredienti, comunque, vabbè, credo sia una caramella, non c'è scritto niente, però c'è scritto, Hot and Salted Tamarind Pulp Candy, in che senso, Hot and Salted, c'è piccante e salato, Pulparindo, questo non l'ho mai visto da nessuna parte, e mi fa molta paura, poi un lecca lecca blu, ha il gusto fragola e lampone, pinta, scommetto che, scommetto che questo fa la lingua tutta blu, mi servirebbe per fare qualche video horror, poi, oddio, queste mi vengono tanti ricordi, me ne aveva portate Greg, I chew immensely fruity, intensely, chewy candy, non so cos'ho letto, pronuncia, lascia stare, sweet and sour, watermelon, beh, watermelon mi piace, fa molto estate, e, sì, dai, poi, un'altra di quelle di KitKat, di Pasqua, queste io le ho già assaggiate, sono una cosa orribile, sono la cosa più orribile del mondo, il problema ad aver fatto un sacco di video saggi è che puoi incappare in cose che magari hai già assaggiato, questa è l'unica cosa che ho già assaggiato, ah no, beh, anche queste caramelle, per il resto sono stata fortunata e magari la prossima volta proverò a comprare io dal sito qualcosa che non ho mai assaggiato e assaggiarlo, però non è più misterico, però se ti piacciono i video, assaggi, perché no, continuare a fare queste cose, appunto queste sono caramelle tossiche, tossiche nel senso che sono super aspre, acide, sono, non riuscivo neanche a tenerle in bocca, io mi ricordo, forse sul canale Hecate Splendente c'è il video, non mi ricordo, perché si parla di cose molto, tanto, 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 tanto tempo fa, e abbiamo ben tre lattine, tra cui due dei Monster, che io non bevo, ma assaggerò comunque, questa che mi ha la confessione, cioè, solo per la confessione hai tanta roba, perché è verde e nera, cioè, finca, Monster Energy Nitro, un dollaro e 45, però non so a che gusto sia, Nitros Technology, in che senso? Cioè, nel senso che se la bevo io mi scopio il cuore, cioè, non bevo neanche il tè, posso, secondo te, bere la Monster? Morirò, probabilmente morirò, i Punch Monster Punch Energy, e che gusto è Pacific Punch? Non capisco i gusti, gusto Punch, cioè, vabbè, ho già capito che non posso fare, come volevo oggi, quattro video, se cinque prodotti, perché qua è un casino, ah, caffeine free, finalmente, grazie, allora, ho trovato la Fanta al gusto uva, e vabbè, che dire, non ho mai assaggiato quella Fanta così, poi è una bella confezione viola, cacchio, vorrei farmi un make up di questo colore, è troppo bello, ok, ma vado a contare i prodotti, uno, due, tre, quattro, cinque, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, quattro, diciamo che non sono stati proprio onesti, perché non sono venti prodotti, come c'era scritto, e sono di più, ma questo è l'unico prodotto, e mi sono che mi hanno ficcato dentro sei di questi, che sono però lo stesso prodotto, se tu mi scrivi venti prodotti, mi aspetto venti prodotti diversi, quindi, ok, diciamo che è più economica, però non è onesta, ecco, per questa cosa non sono molto contenta, per il resto sono contenta di tutto, perché, a parte le Monster, che però, colpa mia, che forse dovevo specificarlo, però vabbè, andremo a assaggiare lo stesso, per il resto non ho mai assaggiato niente, tranne, vabbè, le caramelle, le tue caramelle, però vabbè, le caramelle sono, la mystery box, non ci si può lamentare, non ci si può lamentare, mi lamento solo che non sono venti prodotti, questo è il cioccolato bianco, questo è il cioccolato latte, però non sono venti prodotti diversi, comunque, spero che questo video ti abbia fatto rilassare, non vedo l'ora di assaggiare i prodotti, e niente, io ti auguro buonanotte, buon relax, ciao creatura!